E questo è il momento più glamour e soprattutto fashion del Fotodays, perché qui con me ci sono coloro che hanno reso fantastiche le modelle che poi ovviamente si sono esibite in questi live set. Innanzitutto Tonino Fontanella, hair stylist, come è acconciato per le feste queste fantastiche ragazze? E diciamo che non c'è molto da fare perché loro già sono bellissime, quindi è stato un lavoro molto facile, ma comunque abbiamo realizzato delle acconciature molto versatili, da portare di giorno e con ne abbinate agli abiti. Poi il trucco l'abbiamo affidato alla signorina qua che è bravissima, Thais, che è molto molto brava ed è una bella manifestazione, questo è il secondo anno che partecipiamo a questa manifestazione e vedo che sta crescendo sempre di più ed è molto interessante comunque. Ma qual è l'acconciatura del 2017, sia per esempio per un evento, sia per il matrimonio? Diciamo che il raccolto va sempre, per una cerimonia da sposa il raccolto è un classico, è come il doppio petto. E poi ovviamente c'è il trucco, il make up che rende ancora più glamour la donna, quel fascino, quella sensualità e queste ragazze sono davvero stupende, grazie a te. Sì, è stato bello lavorare su di loro perché sono due ragazze bellissime, quindi è stato molto facile per me oggi. Quali sono i colori magari di proprio primavera-estate? Sono color rosa ovviamente, pastello, sono colori che vanno benissimo con qualsiasi abito. Che cosa ha rappresentato per te il Photo Days? Il Photo Days, io partecipo il secondo anno al Photo Days ed è sempre un'emozione bellissima. E io vi ringrazio perché mi avete coccolata in questi due giorni, siete stati davvero fantastici. È stato bellissimo lavorare con te. Grazie, grazie tutto a voi. Grazie a tutti.